e voi la conoscevate l'esistenza di questa banconota qui la banconota da 0 euro salve a tutti ragazzi sono Andrirozza e bentornati sul canale come avete visto ragazzi da questa brevissima intro oggi parliamo delle banconote da 0 euro esistono? che valore hanno? ovviamente tutte domande a cui vi risponderò dopo la sigla eccoci di ritorno ragazzi questo è un video a tema monete e a tema collezione monete che volevo portare da circa un mese ci ho messo un pochettino a farlo come al solito per le mie tempistiche ma ci siamo finalmente se ve lo siete perso ragazzi peraltro vi lascio il video collezione di come iniziare a collezionare le monete del regno d'italia molto interessanti vi dico che già quest'anno ci saranno tanti video a tema monete per cui spero un pochettino di interessare che sia questa nuova tematica possa piacere ma tuffiamoci a bomba su questa che cos'è questa banconota ovviamente ragazzi come vedete c'è scritto 0 euro questa è del lago di garda l'ho presa quando sono andato a Pasqua lì per cui oggi vi racconto un pochettino della loro stop partiamo prima dal presupposto queste monete nel senso non hanno nessun valore ragazzi manco a dirlo 0 euro voi non ci potete chiaramente comprare nulla ma sono semplicemente degli oggetti di collezione e dei souvenir ma da dove nasce la loro storia bene la loro storia nasce nel 2015 quando questo imprenditore francese e scusatemi per la pronuncia Richard Fay praticamente lui era uno che produceva già monete commemorative quelle un po' che si vendono tipo nei musei nei negozi non so magari che c'erano un determinato elemento ma sono più degli oggetti da collezione che non avere propria moneta commemorativa di quelle che vengono ad esempio stampate come quelle da 2 euro e a proposito state pronti perché ne arriveranno sul canale e quindi viene in mente questa idea che lui stampano e dice perché non stampare le banconote e eccole qua ovviamente che cosa succede? succede che di solito stampare le banconote chi se ne occupa? se ne occupa ovviamente la BCE è la banca centrale europea però chiaramente tutte le autorizzazioni della BCE sono dettate solo alle banche nazionali per la stampa eventualmente di determinate valute ma per la più chiaramente vengono stampate da loro per cui ha delle regolamentazioni molto precise per cui è vietato mettere in riproduzione e in circolazione monete o banconote appunto riprodotte che potrebbero essere scambiate per vere quindi l'autorizzazione che viene data a Fay per produrre queste è data solo dal fatto che comunque la banconote in questo caso è ben riconoscibile perché proprio ragazzi non è un tipo valore quindi praticamente se uno volesse stampare una propria banconota bisogna avere l'autorizzazione da BCE e deve essere proprio evidente che è una banconota imitazione non è vera però chiaramente tipo ci sono alcuni casi di autorizzazione come in questo caso questo perché ragazzi se la voi andiamo a vedere al di là di tutto se voi la vedete è proprio fatta come una banconota quindi addirittura la stampa è fatta in fibre di cotone con metodi di anticontraffazione peraltro ragazzi mi spiace che non riesco a farvele vedere però c'è di fatto degli elementi molto interessanti riguardanti e intanto la prendo cioè ragazzi voi non vedete qua il dietro la parte posteriore ci sono proprio i metodi classici di contraffazione ovviamente che cosa è segnalato peraltro che è un souvenir quindi come potete vedere c'è questa di questo tipo di banconote ce ne sono veramente tante perché ovviamente adesso chi le produce? non le produce la banca centrale europea è attenzione come magari qualcuno può pensare ho messo in giro queste non sono fatte da banca centrale europea ma sono fatte dalle aziende appunto che producono e voi potete effettivamente anche stamparci tutto peraltro è tutto fatto bene perché vedete c'è anche la firma di file quindi come tipo se fosse anche l'organo competente della stampa quindi molto molto interessante dove si possono acquistare voi le potete acquistare in negozi souvenir questa ad esempio l'avevo pagata 3 euro ovviamente quindi è particolare oppure vengono stampate e si trovano le macchinette chiaramente che valore hanno ovviamente 0 dal punto di vista nominale proprio perché c'è anche scritto ma sono miei e propri oggetti da collezione quindi da questo punto di vista è anche interessante anche per peraltro ragazzi molte aziende hanno fatto proprio il raccoglitore delle banconote da 0 euro provare per credere ad esempio anche Masterfield se non sbaglio quindi è molto interessante ce ne sono tantissime perché rappresentano o i luoghi come ad esempio questa garda o monumenti storici ad esempio ci sono anche semplicemente classiche chiese o personaggi storici come Kennedy come Maradona addirittura oppure proprio legate a quelle che sono le nazioni stesse oppure anche oggetti c'è tipo la moneta 0 euro di Titanic quindi è una collezione molto particolare se uno si vuole avvicinare ovviamente non hanno un valore incredibile salvo alcune casi di stampe molto particolari dove effettivamente possono comportare a qualche elemento molto molto interessante poi poi come al solito vale la legge del collezionismo per cui si può anche pagare il prezzo della rarità della tipologia di banconote ovviamente ragazzi in questo caso non si possono spendere perché chiaramente al di là di tutto che c'è scritto 0 euro non hanno nessun valore appunto economico e monetario quindi sono semplicemente un pezzo del collezionismo chiaramente ragazzi spero che questa storia vi sia piaciuta ne abbia un po' chiarito dubbio è una collezione che vale la pena fare ma è simpatica se volete fare qualcosa di diverso rispetto alle classiche collezioni di monete sicuramente questa è un po' meno costosa chiaramente perché poi alla fine con 3 euro andate nelle città trovate sicuramente la bancoletta 0 euro molto interessante da fare come collezione per cui ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video a tema monete per cui state connessi sul canale e seguite tutti i video un saluto a tutti ciao 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 ciao